Ciao a tutti ragazzi, oggi è domenica, ce la siamo presa come giornata di riposo, perché che ci crediate o no, anche nate giuse ogni tanto si riposano. Stiamo andando in un bellissimo posto, guardate, stiamo andando in un posto dove c'è tanto sole, tanto mare e tanto divertimento. Chissà chi di voi riconoscerà il posto, comunque intanto vi invito a guardare le strade, come potete capire molto probabilmente non siamo in Italia, lo potete capire dal fatto che non vedo neanche un buco, molti di voi capiranno di che cosa sto parlando, strade perfettamente lisce, perfettamente asfaltate, dove saremo? Qualche indizio, ci sono le palme, c'è il mare, in lontananza potete vedere la nostra meta. E' così che inizia il vlog di oggi di nate giuse, inutile che ve lo dica, vi ricordiamo come al solito, se vi piacciono i nostri video, di registrarvi al nostro canale, mettete tanti like, vi posso dire che la temperatura esterna è di 23 gradi e da notare il traffico, sembra quasi di essere in tangenziale, eh? Cosa ne dite? C'è un pochino di venticella. Ciao ragazzi! C'è solo da capire se sono più belli i fiori o la juicy? Sì? Ok, questa è la nostra colazione del mattino. Sandwich con pollo, cappuccino tipicamente italiano, succo di fragola e banana, e un fantastico sandwich con jamon, prosciutto, formaggio e ananas. Buon provvicio! Puerto del Carmen! Puerto del Carmen è considerata la cittadina chic di Lanzarote. Un saluto a tutti i nostri follower a chi ci vuole bene e a chi ci vuole male. Buona vita a tutti! Ciao! 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 Ciao amici, oggi vi vogliamo fare vedere come i canari addobbano i loro giardini. Guardate, ci sono delle deliziose banchette con la lava e le piante grasse, ma andiamo avanti. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo questa fantastica barchetta con delle piante grasse e con dei fiori strepitosi. Grazie a tutti. ora vedete quella scalinata la in fondo la nostra caragiusi ha deciso che adesso dobbiamo andare sulla in cima quindi se dopo questo video non troverete più null'altro pubblicato da noi vuol dire che io sono morto grazie a tutti ragazzi siamo saliti fin quassù perché ci hanno detto che qui ci sono le ville dei super ricchi e noi ve ne faremo vedere qualcuna popolo di youtube come da promessa vi facciamo vedere le ville dei super ricchi qui a puerto del carmen eccone una intanto vi vorrei fare notare io sono un appassionata di case ma questa qui è degna di nota guardate da lassù si vede questo spettacolo a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.